La rassegna stampa è offerta da Venerdì 26 settembre, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'interno della nostra rassegna stampa Apertura dedicata ad una notizia di politica I ministeri chiuderanno prima Nel piano dei tagli del governo è infatti prevista l'uscita anticipata di due ore da parte dei dipendenti All'interno di un'ottica di spending review che si spera dovrebbe portare a degli effetti importanti Si tratta infatti di una manovra girante intorno ai 15-20 miliardi di euro Nel frattempo il premier Matteo Renzi torna sul tema della riforma del lavoro avvisando il Partito Democratico Io non medio, tutto questo e altro all'interno della nostra rassegna stampa Andiamo a leggere insieme Iniziamo la nostra rassegna stampa con il quotidiano nazionale romano Il messaggero tagli, i ministeri chiudono prima Il piano di risparmi del governo uscita a serale anticipata di due ore per i dipendenti Verso una manovra da 15-20 miliardi, lavoro Renzi avverte il PD, io non medio Via Le Mazzini decreto per il nuovo canone Rai è sforbiciata ai compensi dei VIP Giustizia sferzata di Napolitano e testimonierà su Stato Mafia Appello al CSM riforma subito, basta toghe politicizzate Al centro sulla sinistra cronaca internazionale Iraq Nuovi raid aerei della coalizione ISIS allarme metropolitane identificato il boia di Foley Ed ora la pagina regionale con la Gazzetta del Mezzogiorno Il Tar accoglie le ragioni del comune di Lecce contro la sovrintendenza Lecce ok al progetto del maxiparcheggio nell'ex caserma Massa Sulla destra il fatto, India il medico di La Torre l'ho curato come un fratello Il maro pugliese lo aveva ringraziato con una lettera su Facebook La Gazzetta di Lecce, il Tar dice sia al comune via ai lavori dell'ex Massa Lecce contro la rovescia per l'avvio del cantiere del maxiparcheggio in centro Castrignano De Greci, falso papà tenta di prelevare bimbo allarme all'asilo Preoccupante episodio mercoledì mattina, una suora evita il peggio Al centro Palazzo Carafa, Lecce 2019, via libera alla Fondazione Decisione unanime ieri da parte del Consiglio Comunale Ulivi malati, indirittura d'arrivo il decreto anti-xilella Ieri mattina il sì dalla conferenza Stato-Regioni Gallipoli va ripensato il modello dell'offerta turistica Da Confindustria, osservazioni e un invito San Cesario condannato a vent'anni il killer del bodyguard Esclusa l'aggravante della premeditazione Lega Pro, Lecce difesa posto, attacco da registrare Quattro partite senza subire reti Ed infine il nuovo quotidiano di Puglia Porsche punta sul Salento Investimento da 20 miliardi a Nardoma Prova di burocrazia Vendola con la barbanente a Stoccarda Pista potenziata e nuovi servizi Garanzie sulle procedure Al centro giudiziaria L'esecuzione di San Cesario Uccise in piazza il rivale condannato a vent'anni Il PM aveva chiesto l'ergassolo Per l'omicidio Zuccaro Sulla sinistra il sì dalla conferenza Stato-Regione Arriva il decreto per combattere la strage di Ulivi Previsto il commissario per coordinare gli interventi Torniamo alla cronaca Attentato, raid incendiario nel centro di Gallipoli Pizzeria in fiamme, la pista del Racket La capitale della cultura, Lecce 2019 C'è la fondazione, entrano Brindisi e la Regione E poi ricorso contro lo stoppo della soprintendenza Il Tar da ragione al comune Si sblocca l'ex caserma massa Uno sguardo all'attualità Prima di andare alle pagine interne di quotidiano La strage degli alberi Lotta al killer degli ulivi C'è la firma del decreto Ora tocca al commissario Il ministro decide sul nome Favorito resta Vendola Le azioni Ecco il piano con le misure per sconfiggere il batterio Entro il 24 ottobre I risultati del monitoraggio nell'area sospetta Le vie dello sviluppo Porsche investe 20 milioni a Nardò Visita a Stoccarda di Vendola e Barbanente Il circuito sarà potenziato Nuove opportunità di lavoro Pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia Crollano i protesti ma è l'effetto crisi I dati Meno 20% Camera di commercio Creditori diffidenti Lecce, Galatina e Campi I comuni con più protestati Il cantiere della discordia Ex massa Svolta al Tar La spunta al comune I lavori ripartiranno Accolto il ricorso Dopo il no delle sovrintendenze Messuti Rimargineremo la ferita urbanistica Le azioni Il comitato non si ferma Avanti con la battaglia L'auspicio è che il ministero Ricorra al consiglio di stato I nodi del turismo Gallipoli tra luce e ombre Bene sicurezza e ZTL Ma vogliamo più servizi Associazioni e cittadini Viaggio fra le criticità Capitale della cultura Sia la fondazione Uniti per vincere con Lecce 2019 Il consiglio comunale vota All'unanimità Ora i bandi per i direttori Brindisi nel board La sfida alla nautica Altri 500 posti barca Il Salento apre agli Iocci Da San Foca a Porto Cesareo Primato in Puglia Il nodo servizi Occhi puntati Sull'Adriatico Concludiamo infine con lo sport Luce e ombre su Lecce Ma c'è voglia di correre Lega Pro Giallorossi poco concreti Nelle partite Giocate lontano Dal via del mare Ora bisogna ricompartarsi Per recuperare terreno Ancora un rinvio Per la prima vittoria In trasferta Intanto domani pomeriggio La sfida con La Paganese Termina qui anche oggi La nostra rassegna stampa Grazie per essere stati In nostra compagnia Vi diamo appuntamento A breve Con TG News 24 Buona giornata La rassegna stampa È stata offerta da